eccoci tornati su hyperscape fatto qualche partita giusto per capire un po il funzionamento variabilità varie armi un po muoversi nella mappa sugli edifici eccetera e scoperto che c'è doppio salto ovviamente quando siamo in aria in ogni momento possiamo ripremere salto e ci fa un altro salto praticamente in aria e che le armi e le abilità si possono fondere cioè se io ho un'abilità e ne trovo la trovo stessa abilità nella mappa andando vicino fondo e mi potenzia l'abilità sono vari tipi di potenziamento adesso questo devo ancora capirlo penso che anche con le armi che si possono fondere anche le armi garantiscono un danno maggiore io ho visto si riesce a scappare abbastanza facilmente dato che i danni non sono così tremendi non è facile prendere la mira col discorso di salti saltini intanto questa è tutta pratica si prende a mano si prende a mano si prende a mano se prende a mano si prende a mano Sulla mappa ci sono delle case gialle segnate, a volte sono segnate anche di azzurro, dunque sono le case nelle quali si può entrare, la corsa è buona comunque, plasma no, è capitato di usare invisibilità per scappare, non dura tantissimo, però non ti vedono, e riesci veramente a scappare, meglio comunque la storia dei settori, non è... c'è un po' più... 8! 8! 8! 8! 8! 9! 10! 12! 12! 12! non è facile da capire percepire bisogna farci un attimo l'abitudine allora la prima andata malino però ci deve scaldare zone nuove da capire anche magari dove è più facile cadere c'è da dire comunque si può girare anche 5 minuti senza beccarne uno pieno di case non c'è tanta prateria ripeto anche sparare da distante con un cecchino non c'è gente che sta fermo perché non ti viene neanche da star fermo avendo il doppio salto saltando da un tetto all'altro non ti viene a star fermo prevede un cecchino un po' inutile benvenuti contender, stiamo giocando solo crime rush è per te e i tuoi aspetti per salvare tutti gli altri contender si può già pingare è un passato in questo caso forse sono le case let the battle begin, eliminate all other contenders or secure the crown to win big hit that's what we're looking for this is alright troppe munizioni il muro è bello e ti fa veramente una barricata niente male che trasporto l'ho usato proviamo ok questo settore non collassa forse la mia connessione collassa vediamo io potrei vedere cos'è ho visto qualcosa può essere si no sento passi ma intanto il rilevamento funziona ti dice se ci sono nemici io sento passi sono qua è qua è qua da qualche parte è qua sopra un settore è scenduto un settore è scenduto un settore è scenduto come on man come on man come on here the health kick event is ending come on man oh sembra di esagerare scappare si può se ti vecchi uno che che c'era con te non è intuitiva la zona perché collassa ma non possiamo di capire facile facile dove bisogna rientrare bene 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 bene